Ciao a tutti! Oggi realizziamo le linee in testa. Occorrente. Fogli bianchi a 4, forbice, colla stick, pennarelli e pennarello nero. Scarica le matrici. Clicca su un link che trovi in descrizione. Taglia le matrici dei dadi. Piega le linguette laterali. Incollale e forma un dado. Poi disegno la testa della bambina. Poi disegno la testa della bambina. Siamo la testa della bambina. Tira il dado e disegna le linee che vedi sul dado sopra la testa della bambina. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti!